Ciao a tutti, vediamo l'ipnosi per inviare messaggi telepatici alla persona che ti interessa. Mettiti in una posizione comoda e ascolta il suono della mia voce. Rilassa le spalle, le braccia e porta tranquillamente l'attenzione sul tuo respiro. E via via che ascolti il suono della mia voce e respiri, non so se ti stai rendendo conto che qualcosa dentro di te sta cambiando. Il tuo respiro diventa calmo e regolare. Come calmo e regolare è il respiro del mare. Come calmo e regolare è il respiro dell'universo. E via via chi continua ad ascoltarmi e ad ascoltare il suono della mia voce, lasciati andare tranquillamente. Lascia che il tuo corpo possa diventare sempre più pesante. Sempre più pesante. E via via che il tuo corpo diventa pesante e rilassato, la tua mente diventa sempre più lucida, profonda, pronta a penetrare dentro un'altra mente. Dentro la mente della persona che ti interessa. e continua ad ascoltare il suono della mia voce. E mentre ascolti il suono della mia voce entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo, sempre più profondo. e adesso sei pronta, sei pronta a visualizzare la persona che ti interessa. Visualizzala all'altezza del terzo occhio, cioè nel punto alla radice del naso dove si incontrano le soprasciglia. Visualizza con gli occhi della mente in quel punto la persona che ti interessa. Visualizzala in dettaglio mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, la musica e a respirare tranquillamente, a respirare tranquillamente. E via via che mi ascolti e ti rilassi sempre di più riesci a visualizzare sempre più dettagli della persona che ti interessa. e adesso immagina un raggio di luce e di energia dorato che collega il tuo terzo occhio al suo terzo occhio. Questo cordone esce dalla radice del tuo naso e va alla radice del suo naso. Un raggio di luce e di energia che vi collega vi unisce e adesso mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce esprimi un'intenzione un messaggio e racchiudi questo messaggio dentro una sfera colorata. Dai a tu dai tu il colore che preferisci a questa sfera di energia in questa sfera di energia è racchiuso il tuo messaggio ciò che vuoi inviare alla persona che ti interessa. E adesso che tutto questo è pronto immagini che questa sfera parta dalla radice del tuo naso e si muova lungo il raggio di energia fino ad arrivare alla radice del suo naso e qui si diffonde possente benefica in tutto il corpo della persona che ti interessa tutta la sua mente e questa persona diventa ricettiva al tuo messaggio diventa ricettiva al tuo messaggio esprimi fortemente l'intenzione che questa persona possa diventare ricettiva al tuo messaggio e adesso mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce a respirare consapevole del fatto che il tuo messaggio è giunto alla persona che ti interessa ritorna a portare l'attenzione sul tuo respiro sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni rilassati fai cinque respiri profondi trattenendo l'aria alcuni istanti espirandola fuori fino in fondo e al termine di questi cinque respiri profondi inizia a muovere le mani le braccia la testa e per finire apri dolcemente gli occhi sentendoti bene tranquilla tranquillo e rilassato bene questo esercizio di ipnosi metafisica serve per inviare messaggi telepatici alla persona che ti interessa bene per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale perché all'aggiungimento di 40 mili iscritti estrarò 10 sessioni gratuite di riequilibrio emozionale con me quindi iscriviti al canale ciao